e ben ritrovati eccoci su death space 2 nella versione online ora ho fatto partita rapida la prima volta che ora che faccio death space 2 online sarà tutta una novità distrugge cazzo è quello lì che fa salve ei ooooooo no lì ooooooo no lì minchia Che marcello è online? L'alimentazione è andata, i porti sono aperti, ora proseguiamo al primo laboratorio del marzo, avrà una barriera di consegnamento, ma devono esattivarla una volta arrivata. Cazzo! Cazzo! Le barriere di contenimento sono aperti, guardate il marzo, disfuggetelo! Porca puttana! Cazzo! Cazzo! Minchia che casino che è online! Che casino! Cazzo! Vai, andiamo! No! Aiuto ragazzi, ragazzi! Ho due! Marca puttana! Eh, che cazzo! Mi ha sparato l'altro! Ma che testa di cazzo, mi hanno ammazzato! Mi hanno srivellato di boh! What the fuck! E' bellissimo, cazzo! Ragazzi, cioè, avete The Space Doom! Facciamo certi game easy! Facciamo certi partitozze sotto gli... Eh, che cazzo è! Eeeh! Bella questa volta! Questa è la partita! Non mi bacare le parole! Cazzo! 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 Ma che cazzo è! Se rubano in due non c'è cazzo! Sono troppo potenti! Porca merda! Grazie per la visione! 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 ok oh la seconda addirittura e vabbè gente del genere e e e nella mappa era troppo grande prima la mappa era piccolina allora ne figliavi per bene ma adesso era cazzo e vabbè finchia che è sto sfacello un stronzo di merda lo hanno tirato fuori ce l'abbiamo raggruppiamoci le palle non ce la caderemo sc il oh 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 Grazie a tutti. 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 Per ora è tutto.